Siamo in discoteca, com'è questa discoteca? Balla chi legge, ma chi legge non ascolta però, e tu guarda, ah per chi canti? Mieta! Sei mangi, bello di zio, a tutto il gruppo. Guarda quanto sono belli, guarda qua. Qui siamo a Castel Fiscardo? Castel Fiscardo, Orghieto. Sei ma non ti ricordi dove stiamo? No, ma io basta, metti in testa Mieta che mi dimentico il resto. Poi sono un po' eccitato, perché qui, a furia di cambiare pelle, uno poi magari perde anche, e tu hai cambiato pelle, ti trovi bene la nuova pelle. Io mi trovo sempre bene tutte le pelli. Tutte le pelle. Tanto per agganciarsi, prima di passare all'eccitazione, che spero che sia per voi, tutto arriva il Festival di Sanremo. Che cosa? Arriva il Festival di Sanremo. Tu sai che c'è un festival all'unità, lo fanno una volta all'anno. E qual è la tua, come mai non sei andato? Anche l'anno scorso non ci sono andata. Non è che bisogna andare per forza a Sanremo? No, no, no. Si può andare nel momento in cui hai anche delle cose da dover dire. Io avevo già detto delle cose attraverso questo album, quindi di conseguenza... Qui sono già eccitati, questi ragazzi qui, state calmi, che Profonco Bieta li ecciterà, ma sarà un'eccitazione. Ascolta Maurizio, questo è il terzo singolo che abbiamo mestrato da questo album Cambia Perle. È come un pozzo di petronio, viene poi. Ed è una nuova versione, quindi noi l'ascolteremo una cosa diversa, nuova. Ascolterete una cosa diversa, nuova. Il gruppo è già eccitato, è pronto, è caldo. Io direi di lanciare... Mietta, Mietta, ciao. Non diremmi, ciao. Queste saremo, ma chi se ne è detto? Ma no, non è questo, è meglio eccitazione. Eccitazione, sono eccitazione. Seguendo un ritmo non resisto come le fiappe. Eccitazione, è il suo. Eccitazione, è il suo. Seguendo il ritmo non resisto come le fiappe. Eccitazione, è il suo. di me è visto dolce e violenta, tentazione, eccitazione. Se mi guardi in fondo agli occhi vedrai, se mi guardi in fondo agli occhi vedrai, stai passando, stai passando nei miei occhi. La musica che amo io la faccio, e costringo il mondo non mi abbraccio, non ho provato una passione mai. Dico no, no, non esiste, non esiste o se non c'è tensione, no, no, non esiste, eccitazione. A super classifica show c'è Mietta. Per tutti dentro al labirinto delle città, noi per istinto travenezia, disperazione e poco amore. Se mi guardi in fondo agli occhi vedrai, se mi guardi in fondo agli occhi vedrai, stai passando, stai passando nei miei occhi. E non sa voglia di essere se stessi, sensabili, e le abiezioni e i compromessi, ma chi? Per tenere questo senza amore io, dico no, 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 no. Per tenere questo senza amore io, è passando nei miei occhi vedrai, Grazie.